Ciao a tutti, io sono Alessia Sollima e in questo breve audio vi spiegherò la storia degli Estensi. La storia degli Estensi inizia nel X secolo e finisce nel XIX. Avevano un'antica origine germanica e crearono il loro primo potere signorile nel Veneto. Il loro nome viene da un castello che oggi si trova in provincia di Padova, il Castello d'Este. La loro storia inizia nel 1452, quando il Marchese Borso d'Este viene nominato duca di Modena e Reggio dall'imperatore, in quanto Modena e Reggio appartenevano al Sacro Romano Impero. Poi nel 1471 il Marchese Borso d'Este viene nominato duca di Ferrara dal Papa, in quanto Ferrara apparteneva al Papato. Per Duta Ferrara gli Estensi restano ducchi di Modena e Reggio e Modena diviene la capitale del Ducato Estense dal 1598 al 1859. Il Palazzo Foresto, che si trova in centro a Modena, in corso Canal Grande, prende il nome dal Marchese di Montecchio Scandiano, il principe Foresto d'Este. La casa d'Este ha due rami, il ramo di Scandiano e il ramo ducale. Il ramo di Scandiano e il ramo ducale iniziano entrambi da Cesare d'Este, duca di Modena e Reggio, che ebbe tre figli, due dei quali mandarono avanti il ramo di Scandiano, che furono Luigi I e Borso. E poi da Borso nacquero Luigi II, Cesare Ignazio e Foresto, da cui prende il nome il Palazzo Foresto. Il ramo ducale invece venne mandato avanti da duca Alfonso III, al quale succedette poi Francesco I, al quale succedettero poi Alfonso IV, nuovo duca di Modena e Reggio, e Rinaldo, inizialmente un cardinale, poi anche gli un duca. E dalle nozze nel 1655, tra Alfonso IV e Laura Martinozzi, nacquero Maria Beatrice, che divenne regina d'Inghilterra, e Francesco II, duca di Modena e Reggio, che succede a Rinaldo I, suo zio, e muore senza figli. Grazie per l'ascolto. E ho trovato molto interessante questo argomento perché mi ha aperto finalmente un mondo nella storia nel quale sono riuscita a comprendere di più la storia di Modena, la città in cui vivo. Buon proseguimento. Sono Elena Zironi, aluna della classe prima D, e parlerò brevemente di Borso d'Este. Nel Trecento, i da Fogliano divennero signori di Reggio, con Nicolò, padre del noto condottiero ghibellino Guidoriccio da Fogliano, immortalato nel celebre affresco senese attribuito a Simone Martini. Tra il XIV e il XV secolo, i Fogliani si distinsero come condottieri, attestandosi prevalentemente su posizioni filestensi. Nel 1450, Corrado da Fogliano, fratellastro di Francesco Sforza, partecipò in rappresentanza del casato all'incoronazione di Borso d'Este, divenuto marchese di Ferrara alla morte di Lionello. Due anni dopo, ovvero nel 1452, l'imperatore Federico III d'Asburgo, a rientro dall'incoronazione a Roma, nominò Borso d'Este e Duca di Modena e Reggio. Il titolo ducale su Ferrara arrivò invece solo un ventennio più tardi, nel 1471, quando fu conferito allo stesso Borso da Papa Paolo II. Buongiorno, mi chiamo Maria Chiara Guerrieri e sono un'alunna della classe Prima D. Oggi vorrei parlarvi brevemente della famiglia dei Rangoni. I Rangoni furono un'importante famiglia patrizia di Modena. Nel 1481 acquistarono il Palazzo sul Canal Grande dalla famiglia dei Foiliani. Inoltre, grazie a un'alleanza con gli Estensi, acquisirono i feudi di Castelvetro, Levizzano e Spilamerto. Il Palazzo sul Canal Grande divenne una fastosa dimora rinascimentale, in cui i Rangoni ospitarono il futuro Papa, Leone X, nel 1512 e anche il re di Francia, Francesco I, nel 1515. Nel 1598, con la devoluzione di Ferrara, il Duca Cesare del Ramo degli Este di Montecchio trasferì la capitale a Modena. Anche a seguito del trasferimento della corte a Modena, i Rangoni mantennero la loro importanza all'interno del patriziato. Morto Giulio Rangoni nel 1640, la sua vedova, donna Ottavia Farnese Rangoni, decise di vendere il Palazzo di Modena alla Casa d'Este. Sono Elena Zironi, all'una della classe prima D, e parlerò brevemente della famiglia dei Fogliani. Il Palazzo, in seguito soprannominato di Foresto d'Este, si sviluppò nel Medioevo, lungo il cosiddetto Canal Grande. Derivato dal Panaro, il canale attraversava Modena, alimentando il Mullino del Monastero e le Fosse del Castello, sede del Potere Estense a partire dalla fine del 200. Lungo il tratto cittadino del canale vennero edificate le case delle più importanti famiglie patrizie, e l'ubicazione dell'edificio, tra la via Emilia e la principale via d'acqua cittadine, rifletteva il prestigio dei suoi proprietari, ovvero i Fogliani. Originari dell'omonimo castello, a sud di Reggio, i signori da Fogliano svolsero un importante ruolo politico a partire dalla fine del XII secolo, quando entrarono in possesso di castelli matillici. Sono Elena Managoli, studentessa della classe prima D, e vorrei parlarvi brevemente dei tre fratelli Luigi, Foresto e Cesare Ignazio d'Este. Nel luglio 1640, Ottavia Farnese, vedova del conte Rangoni, vendette la dimora sul Canal Grande a Luigi d'Este, il terzo figlio del Duca Cesare. A quel tempo, al governo estense, c'era Francesco I, che nominò Luigi Marchese di Montecchio e Scandiano e governatore di Modena. Morto Luigi nel 1664, il palazzo passò a nipote Luigi II d'Este, che ne fu il proprietario per la seconda metà del secolo. Nel frattempo, la morte di Francesco I, nel 1658, portò al trono Alfonso IV, marito di Laura Martinozzi. In seguito però alla sua prematura morte, la Martinozzi diventene regente nel nome del giovanissimo figlio Francesco II. La partenza di Laura Martinozzi per Londra in occasione delle nozze della figlia Maria Beatrice con Giacomo II Stuart, fornì l'occasione per una congiura a palazzo. Infatti, a Modena arrivarono i tre fratelli Luigi, Foresto e Cesare Ignazio, che nel palazzo sul Canal Grande avevano dato vita a una corte parallela ben più sfarzosa di quella ducale. Colpito da tutto ciò, Francesco II decise di lasciare tutto il potere a Foresto e a Cesare Ignazio. Sono Angelica Sposi e esporrò la parte riguardante il principe Foresto. Allora, nel 1694, morto il duca Francesco II d'Este è senza eredi. La successione di Modena e Reggio passa quindi a Rinaldo d'Este, che è un ex cardinario al potere dal 1695 al 1737. Nel 1713 muore anche Cesare Ignazio e il palazzo rimase al solo Foresto, che ne fu il proprietario esclusivo fino alla sua morte nel 1725. Il palazzo Foresto possedeva un ampio portico lungo la facciata sul Canal Grande e prende il nome proprio dal nome del suo proprietario principale, Foresto. Dopo gli anni trascorsi sulla corte del Re Sole, Foresto intrapreso una carriera militare sotto l'esercito imperiale comandato dal maresciallo Raimondo Montecuccoli. Raimondo Montecuccoli nasce a Pavullo e dal comando delle milizie sconfisse i turchi sulla Raab nel 1664. Il principe Foresto morì poi nel 1725 senza figli. Sono Bulgarelli Chiara e oggi volevo parlarvi della prefettura e delle sue sedi qui a Modena. La prefettura è il principale organo periferico dello Stato Unitario e subentrò il 9 ottobre del 1861, dopo l'Unità d'Italia. La prima sede della prefettura qui a Modena fu il palazzo situato in corso di Terra Nuova, che diventò Cavour un anno dopo, nel 1862. Il palazzo, l'attuale archivio di Stato, ospitò la prefettura napoleonica e alcuni dei castieri del governo austroestense, ovvero apparati amministrativi che si occupano della pubblica amministrazione al cui vertice è posto un membro del governo. Il palazzo era un convento domenicano, che venne trasformato dal governo napoleonico in un vero e proprio luogo di rappresentanza istituzionale. Successivamente, il palazzo ospitò l'ufficio di prefettura del Dipartimento del Panaro e gli alloggi del prefetto. Con l'arrivo di quest'ultimo nel 1862, fu trasferito nel palazzo della prefettura anche il reale archivio segreto della Casa d'Este, che era rimasto al palazzo Ducale, dopo che Francesco V aveva abbandonato Modena. Il trasferimento dell'archivio segreto estense nel palazzo della prefettura, che è collocata dove ora possiamo trovare l'archivio di Stato, quindi in corso Cavour, stancia appunto la nascita dell'archivio di Stato. L'archivio di Stato di Modena, quindi possiamo dire che ebbe fin da subito uno strettissimo rapporto istituzionale con la prefettura, infatti ne conserva ancora l'archivio storico. La prefettura rimase in corso Cavour fino al 1866, quando si trasferì nella sua attuale sede, ovvero il palazzo in Viale Martiri della Libertà. Invece, come sede di rappresentanza della prefettura e alloggio del prefetto, venne disegnato il palazzo foresto in corso Canal Grande.